Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Ecco il filmato in esclusiva del ladro che a Montegiove di Fano si intrufola all'interno di un'abitazione per la quarta volta consecutiva Quasi un milione e mezzo di euro è la cifra del tesoretto che il comune di Fano ha a disposizione per finanziari e opere pubbliche Lavori in superstrada, sale la protesta degli automobilisti ogni giorno alle prese con lunghe code e disagio Addio alla signora Tina Eusebi di Bellocchi, lo scorso 15 settembre aveva compiuto 104 anni Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti dalla redazione di Occhio alla Notizia sul canale 17 Cioè l'informazione locale Cominciamo da un filmato, un filmato che mostra come vedremo tra poco l'incursione di un topo d'appartamento Un ladro che di notte si intrufola e va a rovistare in ogni parte della casa per cercare di portare via qualcosa di prezioso La particolarità è che questo ladro pare essersi affezionato a questa casa perché è la quarta volta di fila che entra dentro Ci sono persone che si affezionano ad un oggetto, un maglione, una macchina o che si affezionano a un ristorante e ci tornano sempre a mangiare A Fano c'è un ladro che si è affezionato a una villetta e ci torna spesso, ben quattro volte Il protagonista di questa spiacevole avventura è un professionista fanese che grazie però all'impianto di telecamere che ha installato Ha potuto documentare le, diciamo, sgredite visite dell'affezionato ladro È vero, è vero, ormai è la quarta volta, quarta, quinta volta, poi magari i tentativi, quelli che ha fatto noi non li conosciamo Però quelli evidenti ormai sono 4-5 volte che ha lasciato traccia dopo aver rubato tutta l'attrezzatura e quindi obiettivamente adesso ha tentato il colpo gobbo Magari entrando dentro casa chissà cosa pensando di trovare Ha portato via qualcosa da mangiare, probabilmente si è accontentato di quel che ha trovato, nient'altro Era molto destra, insomma, un'infrazione con destrezza Una porta che tra l'altro non era facile da aprire perché c'aveva tre blocchi e lui l'ha aperta forzandola in otto punti diversi Poi con dei calci, siamo diventati vulnerabili sotto tutti i punti di vista Quello che dispiace è che soprattutto mette in cute timore anche la famiglia stessa Perché mia figlia e mia moglie da sole adesso non ci vanno più Ora immagini e documentazione sono nelle mani della polizia che sta indagando sull'accaduto E vista la spavalderia dell'intruso che si mostra a viso scoperto, speriamo presto lo assicuri alla giustizia E adesso invece parliamo del bilancio del Comune di Fano Perché? Perché praticamente il Comune avrà più di un milione di euro Un milione e quasi mezzo di euro di soldi da spendere in opere pubbliche Buone notizie sul versante delle opere pubbliche per il Comune di Fano Un milione e quattrocentomila euro saranno a disposizione per finanziare importanti opere Che daranno anche un notevole impulso all'economia locale e quindi all'occupazione Nei consigli comunali che si terranno oggi alle 19.30 e domani Verranno discusse le variazioni di bilancio presentate dall'assessorato per l'approvazione Entro il mese di novembre e che dovranno vedere entro la fine dell'anno conclusa la fase di progettazione Senza intaccare né il patto di stabilità né l'equilibrio di finanza pubblica La somma a disposizione deriva per 500.000 euro dall'avanzo di amministrazione del 2015 E oltre 600.000 euro da maggiori entrate derivanti da contributi regionali, opere di urbanizzazione e parcheggi L'assessore Carla Cecchettelli stamattina ha presentato le opere principali che verranno realizzate con questi fondi 700.000 euro per nuove asfaltature, 270.000 euro per la riqualificazione di impianti sportivi 20.000 euro per i passeggi, 40.000 euro per la manutenzione straordinaria dei musei civici 50.000 euro andranno per gli arredi della Sassonia e 140.000 euro per la manutenzione straordinaria di diversi uffici comunali Ulteriori 220.000 euro derivanti da fondi regionali saranno impegnati per la difesa della costa Abbiamo rispettato anche tutti quegli impegni che ci sarà preso in consiglio comunale In sede di approvazione di bilancio di previsione 2016-2017-2018 Tra cui sono stati rifinanziati il contributo alla Fondazione Teatro, il contributo a Fanno Ateneo Abbiamo riuscito a dare l'anticipo per quanto riguarda il carnevale estivo 2017 Così l'ente carnevalesca può lavorare in tranquillità contando su delle cifre certe da parte dell'amministrazione Abbiamo anche il sociale che era stato nel consiglio comunale in sede di approvazione Era stato un po' oggetto di dibattito acceso Abbiamo risistemato e abbiamo garantito tutti i servizi Quindi anche quest'anno siamo riusciti a rispettare gli impegni presi E garantire tutti i servizi Ora il prossimo appuntamento importante è il bilancio di previsione Sì, gli uffici già stiamo lavorando sul bilancio di previsione Già abbiamo fatto degli incontri di giunta Quindi è intendimento dell'amministrazione di approvarlo entro il 31 gennaio Anche perché l'approvazione di questo bilancio entro quel termine Stando alle ultime notizie della legge di stabilità Ci può permettere di poter aprire degli spazi Spazi che a noi sono importanti perché ci permettono di fare delle opere pubbliche Grazie a questi fondi si è potuto far fronte anche ai lavori di somma urgenza Per un importo di 432 mila euro Resisi necessari per le conseguenze delle scosse di terremoto sugli edifici pubblici 51 mila euro saranno spesi per mettere in ordine la torre civica 195 mila euro per la chiesa di Santa Maria Nuova Mentre per il santuario di Madonna Ponte verranno impegnati 90 mila euro 96 mila euro infine per la residenza comunale Servono un bel po' di soldini anche per sistemare la caldaia della piscina Dini-Salvalai Atleti in trasferta per potersi allenare in vista delle gare Cittadini appassionati di nuoto che non possono usufruire dell'impianto per cui hanno pagato abbonamenti Una società, la Fano Fortune, che ha fatto investimenti importanti all'inizio della sua gestione Spogliatoi rimessi a nuovo, impianti a norma, nuova copertura per la vasca Per il risparmio energetico Una situazione davvero preoccupante, quella della piscina Dini-Salvalai Che da ieri è chiusa ad oltranza A causare questa volta lo stop, niente batteri, niente riciclo Ma la caldaia del riscaldamento, che dopo solo sei anni Quella precedente era durata 30 Ha deciso che era ora di fare basta e si è irrimediabilmente rotta La caldaia di sei anni di vita si è crinata in più punti E siamo costretti a chiudere l'impianto Perlomeno da quello che mi sembra di aver capito per un massimo di dieci giorni In cui la provincia si è già attivata, il comune si è già attivato Con i loro tempi naturalmente, perché non è che l'impianto è loro, non è il nostro E si sono attivati per trovare prima di tutto i soldi Trovare la caldaia, che sembrerebbe che c'è la caldaia a disposizione eventualmente Adesso basterebbero solo che si scrivano tra di loro le varie cose Ma vedo che c'è buona volontà anche perché questo è l'unico impianto che abbiamo qui a Fanno Sicuramente si stanno muovendo alla cremente per cercare di ripristinare al più presto Noi ci aspettavamo tutto, meno che la rottura della caldaia che ha sei anni di vita Il prossimo 2 dicembre a Fanno si terrà un importante convegno su un tema delicato Quello della dipendenza da gioco, gioco d'azzardo È considerato una vera e propria dipendenza Oltre che fonte di vere e proprie tragedie familiari, sociali ed economiche Il gioco d'azzardo patologico è la nuova piaga del nostro secolo Un vortice che trascina e divora tutto e tutti quelli che ci cascano L'industria del gioco d'azzardo vanta numeri paurosi Un fatturato di 88 milioni di euro E rappresenta il 4% del PIL a livello nazionale Ed è la seconda industria italiana dopo l'Enel 16 milioni inoltre sono a livello nazionale i giocatori abituali E nelle Marche ci sono 9.000 slot machine Praticamente una ogni 167 abitanti Fatta a Fanno la prossima settimana il 17esimo convegno a livello nazionale Organizzato dal CONAGA Il coordinamento nazionale e comitati gioco d'azzardo Per fare il punto e stabilire nuove strategie di intervento Per questo flagello contemporaneo Siamo davvero molto entusiasti di poter ospitare qua a Fanno Questo appuntamento nazionale Affidato dalla CONAGA questo coordinamento nazionale E che quindi ha chiesto alla Comune di Fanno Lo specifico al nostro assessorato La collaborazione per poter dar vita a questa giornata di lavori Molto significativa Il Comune di Fanno è impegnato su questo fronte Già dall'inizio diciamo dal nostro insediamento Sia attraverso appunto un regolamento Da adottare nei confronti appunto Dei commercianti, ristoratori Che nel nostro territorio hanno al loro interno Le slot machine o comunque altri mezzi Strumenti che vengono utilizzati per appunto Il gioco d'azzardo A Fanno però c'è da tempo una cooperativa sociale L'IRS Aurora che al cante di Montevecchio Ha messo in piedi una struttura riabilitativa Per il gioco d'azzardo patologico L'IRS Aurora ha iniziato la sua attività Relativamente al gioco d'azzardo nel 2010 Con alcuni servizi di trattamento E di prevenzione rispetto al gioco d'azzardo Svolgiamo che quindi si impegni in trattamenti Di tipo residenziale Però svolgiamo anche attività di tipo ambulatoriale Oltre a svariati interventi di tipo preventivo Sul territorio e informativo Allora adesso parliamo di viabilità Perché tanti automobilisti in questi giorni Ci hanno chiamato per lamentare Della lungaggine dei tempi Di lavori di asfaltatura Lungo la E78 La superstrada Fanno-Grosseto Nel tratto che va da Lucrezia A Bellocchi di Fanno In direzione Fanno Lavori che sono iniziati ormai da diverse settimane Dei quali non si vede ancora la fine Tante dicevole proteste Tanti telespettatori che ci chiedono Quando riaprirà finalmente questa strada Noi abbiamo cercato informazioni Abbiamo cercato notizie Siamo adesso in collegamento Con il gestore del Bar Torno Che insiste sull'area di servizio Coinvolta nei lavori Che tra l'altro è chiusa Proprio dal 15 di novembre E sentiamo se ha qualche informazione In più da darci E da dare agli automobilisti Intanto buonasera Buonasera, buonasera a tutti Allora Il suo bar Il bar che gestisce Sua moglie È chiuso Ormai da quel 15 novembre Il giorno in cui sono iniziati I lavori Dovevano riaprirla Questa superstrada Ormai Forse Da qualche giorno Ma in realtà Che succede? Ma in realtà C'è un rallentamento dei lavori A quanto pare Ci stanno dicendo Giorno per giorno La stanno slittando Un po' attaccati Alle condizioni atmosferiche Si nascondono un po' là dietro Però c'è anche da dire Che ci sono stati dei sabati Che c'era il gran sole Si poteva asfaltare Si poteva fare le righe Si poteva Aver già finito Tutto quanto In realtà È tutto fermo lì Noi perdiamo business Perdiamo Insomma Il lavoro Esefice ne abbiamo Noi e ovviamente Anche la stazione IP Dei gestori di benzina Insomma Subiscono danni Perché neanche se il service Possono utilizzare Insomma Tra l'altro mi pare Brusciati Che non avete Nessun tipo di rimborso Mi pare Su questi giorni Che rimanete chiusi Giusto Giusto Abbiamo provato A chiederlo Però Quasi ci deridono Quando diciamo Di chiedere un rimborso Ovviamente La società API Non c'entra nulla In questo È ovviamente La società Che gestisce La strada Che dovrebbe Fare un sfrastimento Però Quando gli dico Guarda vado dal legale Dice no Vai pure Però vedi tu Ecco quindi Possiamo dire Adesso Indicativamente Comunque Qualche informazione in più Magari voi ce l'avete Entro la settimana Potrebbe riaprire Questa strada Questa autostrada Superstrada Potrebbe riaprire Entro venerdì Potrebbe Però non abbiamo Neanche noi La certezza Fino almeno domani O dopo domani I prossimi giorni Ok Staremo a vedere Fiduciosi Grazie Giacomo Brusciati Per questo aggiornamento Importante Anche perché Come vedete È un'arteria Importantissima Dove Circolano Migliaia di auto Ogni giorno E soprattutto Nel fine settimana Si creano Ma non solo Nel fine settimana Si creano anche Rallentamenti E a volte Anche dei tamponamenti Perché poi Si arriva A imbuto E spesso Si è distratti Ok Andiamo avanti Con il giornale Adesso parliamo Degli studenti Del liceo scientifico Torelli di Fano Che Con alcuni loro Docenti Hanno partecipato Alla giornata Del banco alimentare Un'iniziativa A livello nazionale Che si svolge Ormai da diversi anni In tutta Italia All'interno Di alcuni centri commerciali Gli studenti Hanno svolto Un servizio Servizio di volontariato Hanno raccolto Vari genere alimentari Che i clienti Del supermercati Hanno voluto donare Per scopi Naturalmente Di solidarietà Purtroppo Ci ha lasciati La signora Tina Lo scorso 15 settembre L'avevamo festeggiata Con una foto Per il suo Centoquattresimo Compleanno Oggi A Danne Notizia Sono stati i familiari Alessandro Roberto Eusebi Che hanno ringraziato Tutti coloro Che in questi giorni Hanno voluto Salutare per l'ultima volta La signora Tina Anna Mencarelli Eusebi Che abitava A Bellocchi di Fano I familiari hanno ringraziato Anche tutto il personale Del reparto di geriatria Dell'ospedale di Fano Che le ha prestato Professionali Ed amorevoli Cure Buon viaggio Allora la signora Tina Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una Buona serata Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito